Buongiorno da Edo, un dev influencer che non vi consiglierei di seguire, soprattutto perché ogni tanto prende una settimana di pausa, così dal niente, senza annunciarlo, anzi dando appuntamenti alla settimana prossima, poi una settimana che non si fa niente, però insomma è stata una settimana un po' impegnativa, non ce l'ho fatta a fare il buongiornissimo, ma torno alla grandissima oggi per questa nuova puntata, oggi è tra l'altro il 18 dicembre, quindi poi ci stiamo avvicinando alla pausa natalizia, quindi ma sì, un podcast che ogni tanto si fa, ogni tanto no, non è importante, tra l'altro prima di parlare di quello che volevo parlare in realtà la settimana scorsa, e cioè del AI Act, magari già avete letto di tutto in questi giorni sull'AI Act, ma vi beccate anche un riassuntino che ho preparato io, ma prima vi faccio sentire un po' vecchi, vi voglio fare sentire vecchi, perché se non lo sapete ci sono due anniversari che vi faranno sentire vecchissimi oggi, il primo è quello di Turbo Pascal, che compie 40 anni, 40 anni di Turbo Pascal, tra l'altro Turbo Pascal è stato il mio primo contatto con la programmazione, vi ricordate qual è stato il vostro primo contatto con la programmazione? Il mio è stato Turbo Pascal, mi ricordo perfettamente che ero in un laboratorio del liceo Ginnasio Virgilio di Mantua, era già incredibile che a un liceo classico ci fosse un corso di informatica con un laboratorio, ebbene, la professoressa lanciò questo corso con Turbo Pascal, e vi ricordo perfettamente dove ero, cosa avevo attorno, questi monitor CRT, questo laboratorio incredibile, e con il mio piccolo programmino, con Begin, una stampa di qualche stringa che non ricordo, che poi lanciai, e da lì, ecco, partì tutto il mio percorso verso l'informatica, quindi Turbo Pascal con affetto, ricordo, questo mio primo contatto, e ora sentitevi vecchi perché appunto ha 40 anni, e l'altro anniversario che vi farà sentire ancora più vecchi probabilmente è quello di Doom, il videogioco, Doom, ha 30 anni, e per celebrare questi 30 anni, peraltro, John Carmack e John Romero, che sono i due game designer e programmatori, anzi, Romero più designer e Carmack, il vero programmatore di Doom, hanno fatto una reunion, una live su Twitch, dove hanno un po' conversato, ecco, di questa loro avventura con Doom, parlando un po' di cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa avrebbero fatto diversamente, eccetera. Poi dopo Doom, naturalmente, hanno sviluppato anche Quake, e poi dopo le loro carriere professionali si erano un po' separate, si erano divise, oggi Romero cerca ancora di lavorare nel settore del game design, mentre Carmack è più verso l'intelligenza artificiale, dopo una parentesi con la realtà virtuale, si è buttato nell'intelligenza artificiale, tema di cui, peraltro, parleremo oggi, quindi, ecco, prendo anche il gancio per andare a parlare del tema di oggi, quindi senza ulteriori indugio, dopo avervi fatto sentire appunto questa vecchiezza data dal trentesimo anniversario, dimmi dirò che anche questo potrebbe essere stato una milestone del vostro percorso di avvicinamento all'informatica, direi di partire con l'AI Act, e quindi le news di oggi. Allora, siccome l'AI Act è una cosa europea, ed è una cosa che ci riguarda anche parecchio da vicino perché l'influenza dell'Italia in qualche modo è stata importante, ma vedremo come in questo Act, e quindi per parlarne ho deciso di affidarmi a tre fonti italiane, invece delle solite fonti americane o comunque straniere che guardiamo di solito, ecco, usiamo fonti italiane così cambiamo anche un pochino. La prima è Guerra di Rete. Guerra di Rete è una newsletter scritta da Carola Frediani e tra l'altro anche da altri, comunque Carola Frediani è quella che ha lanciato il progetto. Se vi interessa un po' quello di cui parla, che è soprattutto cyber security, ma anche questioni legali, legislative, e anche insomma un po' in generale sull'IT, ecco, vi consiglio di iscrivervi a Guerra di Rete. La trovate su substack, comunque guerradirete.it, e trovate tutto. Bene, sull'ultimo numero di Guerra di Rete si parla proprio di AI Act. Vi leggo un po' un'introduzione, poi andiamo a vedere quali sono i punti fondamentali che questa regolamentazione andrà a proibire nell'uso dell'AI. Leggo Dopo più di due anni di gestazione, un record di 36 ore di negoziati estenuanti, una conferenza stampa annunciata e saltata data da destinarsi, per poi finire in corner a mezzanotte, e un interesse d'evento sportivo mai visto prima per regolamentazioni tech, è stato infine raggiunto un accordo politico in Europa per l'AI Act, il regolamento UE sull'intelligenza artificiale. L'accordo uscito dal trilogo, negoziazioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione, in questo momento manca ancora di un testo definitivo, e molto si giocherà sui dettagli. Quindi, tutto quello che stiamo leggendo in realtà deriva da comunicati stampa, dichiarazioni di politici coinvolti, insomma, non c'è un testo definitivo, però si sanno, ecco, a grandi linee, i punti fondamentali, è su quello che si va a commentare. Prosegue una lettura, dice Già il fatto di aver trovato un accordo politico e aver chiuso l'AI Act è un successo considerata la quantità di soggetti e interessi che remavano contro e quanti scommettevano sul fallimento di queste trattative. E infatti abbiamo una reazione anche dell'ottimo Thierry Breton. Sapete che io non amo la comunicazione pubblica di Thierry Breton, l'avevamo già vista in altre occasioni. Secondo me è un politico che sfrutta le stesse strategie di comunicazione che sfrutterei io, cioè i meme e le fotine con le risatine, insomma, non credo che sia un buon modo di fare comunicazione politica. Comunque, questo è lo stile di Breton. Nel festeggiare il raggiungimento di questo accordo ha scritto un tweet con il meme del grafico a torta, dove c'è però un solo valore, quindi è tutto colorato di un unico colore. E gli dice quali sono i continenti che hanno una regolazione sull'AI e c'è l'Unione Europea, che ovviamente è l'unico continente che ce l'ha, quindi becca tutta la torta, e poi gli altri in un colore che non c'è. Ok, se vi piace questo modo di comunicare. Comunque questo era il signor Breton. Comunque sta a sottolineare un fatto, cioè che questa è la prima legge a livello mondiale che va a regolamentare l'AI. Nessun altro ce l'ha, quindi magari metterà anche della pressione ad altri governi, sto pensando soprattutto a quello americano, per creare leggi di questo tipo. Al momento, insomma, siamo i primi, possiamo dire almeno, di avere questo primato. Ora, vediamo quali sono le proibizioni che dovrebbero emergere da questa regolamentazione. Quindi, quali saranno le applicazioni di AI proibite? Allora, sono i sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili, quindi per esempio le convenzioni politiche, religiose, filosofiche, l'orientamento sessuale e la razza. Poi, lo scraping non mirato di immagini divisi da internet o da filmati di telecamera a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale. Poi, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle istituzioni scolastiche, ma con alcune eccezioni, nel nome della sicurezza per esempio, per rilevare se un guidatore si sta addormentando. Poi c'è la classificazione sociale basata sul comportamento sociale o sulle caratteristiche personali, quindi questo è il cosiddetto social scoring, che abbiamo visto essere applicato in Cina. Poi, sistemi di AI che manipolano il comportamento umano per eludere la libera volontà delle persone, quindi quelle che cercano di, ecco, sfruttare vulnerabilità tipo disabilità, oppure l'età avanzata di una persona o la loro situazione sociale. Ecco, questo tipo di approccio sarà proibito. Ora, in questo comunicato però, manca una menzione specifica, ma noi sappiamo che dovrebbe essere incluso nel testo finale il cosiddetto predictive policing, quindi la polizia predittiva. Almeno dovrebbe essere proibito nella forma in cui si valuta il rischio che un certo individuo possa commettere dei reati sulla base di tratti personali. Ecco, qui Carola Frediani sta citando Luca Bertuzzi, che è un giornalista di Euractiv, che ha seguito tutte le negoziazioni, ha fatto un bel lavoro se lo cercate, ecco, troverete anche degli approfondimenti ulteriori. Comunque, in questo caso non è chiaro quale sia la formulazione precisa finale, quali siano i confini tecnici di questo ban, di questo ban alla polizia predittiva. Qua, continuo a leggere da Guerra di Rete, il correlatore delle act Dragos Tudorache, che è della Romania, ha detto che sarebbe consentito in alcune circostanze. Di fronte a una domanda al riguardo, l'altro correlatore, Brando Benifei, che è italiano, ha detto che c'è un ban su tutte le attività di polizia predittiva, ma abbiamo concesso la possibilità di utilizzare applicazioni di analisi del crimine che non si applicano a singoli individui, bensì a tendenze anonime, ed escludiamo che possano prevedere o suggerire che qualcuno possa commettere un crimine. A quel punto, Tudorache ha riconosciuto che sì, sono state vietate tutte le tecnologie che potrebbero predeterminare chi potrebbe commettere un crimine. Quindi, questo è quanto si sa al momento. Poi, riprendo a leggere, A causa delle pressioni dei governi sul Parlamento, non c'è un ban totale sui sistemi di identificazione biometrica da remoto, in spazi accessibili al pubblico, nel senso che ci sono eccezioni ai fini delle applicazioni della legge previa, autorizzazione giudiziaria, e per liste di reati rigorosamente definite, quindi per esempio la ricerca mirata di una persona condannata o sospettata di aver commesso un reato grave. Questo uso sarebbe limitato nel tempo e nel luogo ai fini di ricerche mirate di vittime, oppure prevenzione di una minaccia terroristica specifica e attuale, oppure di localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso uno dei reati specifici menzionati nel regolamento, per esempio terrorismo, traffico di esseri umani, cioè una serie di reati menzionati. Poi si parla, infine, di AI generativa, e per queste, proseguo con la lettura, è stato concordato che i sistemi di AI per uso generale, GPAI, che possono svolgere compiti vari, dovranno aderire ai requisiti di trasparenza inizialmente proposti dal Parlamento. Questi includono la stesura di documentazione tecnica, il rispetto della legge sul copyright dell'UE, e la diffusione di sintesi dettagliate sui contenuti utilizzati per l'addestramento, questo quanto dice il comunicato. Per i modelli GPAI ad alto impatto, con rischio sistemico, se soddisfano determinati criteri, dovranno condurre valutazioni del modello, dei rischi sistemici, test di sicurezza, e riferire alla commissione su incidenti gravi. Secondo le valutazioni di alcuni esperti, al momento solo GPT-4, e forse Gemini, ricadrebbero in questo livello di GPAI ad alto impatto. Pare comunque ci siano eccezioni per i modelli open source e per la ricerca. Cito infine le sanzioni, il mancato rispetto delle norme può portare a multe che vanno da 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale, a 7,5 milioni o l'1,5% del fatturato, a seconda della violazione e delle dimensioni dell'azienda. Naturalmente, su questa newsletter c'è molto di più, potete leggerla all'indirizzo guerradirete.substack.com io vi vado a prendere altri articoli che parlano dell'AI Act, sempre però di fonti italiane, per vedere qualche altro dettaglino. Il primo è su dday.it e vado a prendere l'articolo che si intitola l'AI Act europeo è la prima legge del mondo sull'intelligenza artificiale e si basa sul concetto di rischio per la società. E infatti vado a leggere l'AI Act segue un approccio basato sul rischio. Quindi ci sono divisioni di livello di tecnologie negli AI. C'è rischio minimo, rischio elevato, rischio inaccettabile e rischio specifico sulla trasparenza. Ora, il rischio minimo riguarda la grande maggioranza dei sistemi IA come i sistemi di raccomandazione oppure i filtri anti-spam e questi non avranno obblighi. Poi c'è il rischio elevato che tocca i sistemi di IA usati in alcune infrastrutture critiche come nei settori dell'acqua, del gas, dell'elettricità o i dispositivi medici. Ci sono poi a rischio elevato anche i sistemi di identificazione biometrica o di categorizzazione delle emozioni. Ecco, distribuire un sistema a rischio elevato comporta per le aziende il rispetto di certi requisiti rigorosi. Poi la categoria di rischio inaccettabile racchiude i sistemi di IA considerati una minaccia ai diritti fondamentali delle persone e quindi sono completamente vietati. I sistemi o le applicazioni di IA che manipolano il comportamento umano per aggirare il libero arbitrio degli utenti oppure i sistemi che consentono il social scoring sono esempi di questo rischio inaccettabile. E infine c'è il rischio specifico sulla trasparenza che riguarda sistemi di IA come i chatbot per i quali gli utenti devono essere consapevoli che stanno interagendo con una macchina. Quindi proprio ai fini della trasparenza i deepfake e altri contenuti generati dalla IA dovranno essere chiaramente etichettati come tali. Quindi abbiamo approfondito ancora un pochino di più su questi livelli che la legge va a identificare livelli diversi di rischio sulle IA. Interessante è questo approccio di una tecnologia giudicata e valutata e classificata in base al rischio per i diritti umani. Molto interessante questo approccio. Infine vado a prendere un articolo apparso su Il Post che si intitola Cosa c'è nell'AI Act? La prima legge nel mondo per regolamentare l'intelligenza artificiale. Anche qua si pone l'accento sul fatto di essere arrivati per primi l'articolo è naturalmente molto lungo e dettagliato vi vado però a leggere soltanto un piccolo estratto. Uno dei temi centrali e già ampiamente discussi prima che la proposta fosse presentata ufficialmente è legato ai sistemi per riconoscere automaticamente gli individui nelle riprese delle telecamere di sicurezza. L'avevamo accennato all'inizio della guerra di rete tutte quelle riprese che vengono fatti in ambienti pubblici. Benissimo. Durante i negoziati proseguo a leggere si è discusso a lungo di come le forze dell'ordine dovrebbero gestire questi sistemi nel rispetto della privacy delle persone e per evitare il rischio di schedature di massa. Diversi paesi erano a favore di misure molto restrittive quindi per limitare al massimo l'uso di questi sistemi mentre Italia, Ungheria e Francia hanno sostenuto una posizione più permissiva. Il riconoscimento facciale è stato vietato ad eccezione di tre casi l'evidente minaccia di un attacco terroristico la ricerca di vittime le indagini che riguardano reati gravi come omicidi sequestri violenza sessuale quindi vedete che inizialmente i paesi erano pronti a escludere o comunque limitare fortissimamente l'uso delle IA su telecamere in spazi pubblici e invece la pressione di tre stati tra cui il nostro quindi Italia, Ungheria e Francia hanno fatto sì che invece si permetta l'uso di queste tecnologie in casi specifichi che poi dovranno essere approvati da un giudice eccetera però insomma non sono stati completamente esclusi e questo non so ecco se è un bene o no però al momento abbiamo questa proposta naturalmente non è ancora definitiva dovrà essere discussa in Parlamento e dovrà essere trasformata in legge però per il momento abbiamo questi segnali sull'AI Act e comunque è interessante saperlo e discuterne prima di passare però al secondo tema di oggi vi voglio far sentire un po' di parole da una cosa che non pensavo di dover mai trattare qua al podcast e cioè il messaggio di sua santità Francesco per la giornata mondiale della pace il signor Papa siccome c'è la giornata mondiale della pace che si celebra ogni anno il primo di gennaio ecco lui a dicembre tipicamente scrive un messaggio che poi verrà letto in quella occasione il messaggio che ha scritto quest'anno parla tutto di AI e Machine Learning e ne parla in un modo che io vi giuro vorrei sentire dai nostri politici perché ok è un modo un po' filosofico di trattare la questione però va a centrare esattamente i punti importanti e critici vi voglio leggere alcuni passaggi poi trovate l'intera lettera sì qua sul sito del Vaticano comunque in giro trovate il testo integrale se cercate appunto la lettera per la giornata mondiale della pace vado a leggere parto dall'intelligenza artificiale di essa ad oggi non esiste una definizione univoca nel mondo della scienza e della tecnologia il termine stesso ormai entrato nel linguaggio comune abbraccia una varietà di scienze teorie e tecniche volte a far sì che le macchine riproducano o imitino nel loro funzionamento le capacità cognitive degli esseri umani parlare al plurale di forme di intelligenza può aiutare a sottolineare soprattutto il divario incolmabile che esiste tra questi sistemi per quanto sorprendenti e potenti e la persona umana essi sono in ultima analisi frammentari nel senso che possono solo imitare o riprodurre alcune funzioni dell'intelligenza umana l'uso del plurale evidenzia inoltre che questi sistemi molto diversi tra loro vanno sempre considerati come sistemi sociotecnici infatti il loro impatto al di là delle tecnologie di base dipende non solo dalla progettazione ma anche dagli obiettivi e dagli interessi di chi li possiede e di chi li sviluppa nonché dalle situazioni in cui vengono impegnati l'intelligenza artificiale quindi deve essere intesa come una galassia di realtà diverse e non possiamo presumere a priori che il suo sviluppo apporti un contributo benefico al futuro dell'umanità e alla pace tra i popoli tale risultato positivo sarà possibile solo se ci dimostreremo capaci di agire in modo responsabile e di rispettare valori umani fondamentali come l'inclusione la trasparenza la sicurezza l'equità la riservatezza e l'affidabilità capite che se su un giornale italiano mainstream leggessi queste definizioni di intelligenza artificiale e sentissi da un politico questo tipo di discorsi sarei molto contento molto sollevato e invece non trovo questo tipo di comunicazione la devo trovare dal Papa che di sicuro è l'ultima persona da cui mi aspetto un'analisi scientifica e accurata ecco dell'intelligenza artificiale del machine learning questa lettera l'ho trovata bestiale consiglio proprio di leggerla comunque prendo qualche altro estratto qua e là l'intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni non in competizione con essi poi c'è addirittura un capitolo dedicato alla machine learning quindi le macchine che imparano da sole e dice la riservatezza il possesso dei dati e la proprietà intellettuale sono altri ambiti in cui le tecnologie in questione comportano gravi rischi a cui si aggiungono ulteriori conseguenze negative legate a un loro uso improprio come la discriminazione l'interferenza nei processi elettorali il prendere piedi di una società che sorveglia e controlla le persone l'esclusione digitale e l'inaspiramento di un individualismo sempre più scollegato dalla collettività tutti questi fattori rischiano di alimentare i conflitti ed ostacolare la pace meraviglioso secondo me è abbastanza meraviglioso sentite anche questa in futuro l'affidabilità di chi richiede un mutuo l'idoneità di un individuo a un lavoro la possibilità di recidiva di un condannato o il diritto a ricevere asilo politico o assistenza sociale potrebbero essere determinati da sistemi di intelligenza artificiale la mancanza di diversificati livelli di mediazione che questi sistemi introducono è particolarmente esposta a forme di pregiudizio e discriminazione gli errori sistemici possono facilmente moltiplicarsi producendo non solo ingiustizie in singoli casi ma anche per effetto domino vere e proprie forme di disuguaglianza sociale se sentissi un politico esprimersi così io sarei contentissimo vi devo leggere anche questa in questo contesto non possiamo fare a meno di considerare l'impatto delle nuove tecnologie in ambito lavorativo ma ansioni che un tempo erano appannaggio esclusivo della manodopera umana vengono rapidamente assorbite dalle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale anche in questo caso c'è il rischio sostanziale di un vantaggio sproporzionato per pochi a scapito dell'impoverimento di molti qui marxismo proprio il rispetto della dignità dei lavoratori e l'importanza dell'occupazione per il benessere economico delle persone delle famiglie e delle società la sicurezza degli impieghi e l'equità dei salari dovrebbero costituire un'alta priorità per la comunità internazionale mentre queste forme di tecnologie penetrano sempre più profondamente nei luoghi di lavoro si parla poi anche dell'AI in uso militare in ambito militare e anche infine nell'ambito educativo quindi nella scuola e sentite qua cosa dice a proposito proprio della scuola l'educazione all'uso di forme di intelligenza artificiale dovrebbe mirare soprattutto a promuovere il pensiero critico è necessario che gli utenti di ogni età ma soprattutto i giovani sviluppino una capacità di discernimento nell'uso di dati e contenuti raccolti sul web o prodotti da sistemi di intelligenza artificiale le scuole le università e le società scientifiche sono chiamate ad aiutare gli studenti e i professionisti a fare proprio gli aspetti sociali ed etici dello sviluppo e dell'utilizzo della tecnologia qui vi ricordate tutti i discorsi sulle scuole che vogliono bannare completamente ignorare impedire l'uso in ogni modo dei chatbot dell'intelligenza artificiale in generale ecco invece qua c'è il papa che ne promuove non solo ne promuove l'uso ma proprio ne caldeggia l'apprendimento l'affiancamento a un percorso di uno studente perché sia in grado poi di saperlo utilizzare di saperlo utilizzare in modo critico e io questo l'ho trovato meraviglioso se vi ricordate nell'ultimo episodio del podcast abbiamo parlato di Gemini quindi del prodotto di DeepMind e quindi di Google che dovrebbe andare a soppiantare comunque a battere GPT-4 in un sacco di applicazioni e in particolare la cosa molto pompata era la sua capacità di riconoscimento multimodale cioè di riconoscere immagini video testo contemporaneamente in un video presentato assieme a questo lancio c'è appunto un uomo che muove le mani fa delle forme con le mani e Gemini in grado di capire cosa sta succedendo in tempo reale come potete vedere nel video che sto facendo passare in sottofondo per chi sta guardando questo è il video creato da FireShip che se vedete anche come si intitola che è The Gemini Lie ecco quindi la bugia di Gemini vi sta facendo vedere che in realtà quello che fa Gemini non è il riconoscimento in tempo reale di un video ma in realtà è stato creato ad arte facendo interpretare a Gemini delle immagini fisse delle immagini statiche corredate anche da qualche suggerimento testuale però in realtà confezionate in modo da far apparire al pubblico che il riconoscimento fosse effettivamente in tempo reale di ecco pezzi di video in movimento comunque di qualcuno che stesse facendo dei movimenti e infatti poi Google stessa l'ha ammesso e varie testate online hanno riportato questa cosa qui sono per esempio su Ars Tecnica dove c'è la dichiarazione di una portavoce di Google che dice abbiamo creato questa demo registrando dei video per testare le capacità di Gemini su un'ampia gamma di sfide e poi abbiamo fatto abbiamo creato dei prompt per Gemini usando delle immagini dei frame di immagini da questo video e corredandole da prompt testuali quindi questa roba è effettivamente quello che hanno fatto non un riconoscimento in tempo reale con il video che potete vedere ancora su YouTube che si chiama Hands On with Gemini e un giornalista di Bloomberg ha quindi poi twittato che il video di Google ti faceva apparire come se Gemini fosse in grado di riconoscere diverse immagini in tempo reale ma questa non è la verità il problema naturalmente con questo oltre all'inganno certo che poi Google ha scritto un blog post dove ha spiegato che questo non era un inganno semplicemente hanno voluto fare una cosa un po' promozionale ma in realtà le cose non stanno così eccetera certo il problema è che molte persone non leggeranno questo blog post di Google rimarranno convinte delle capacità incredibili di Gemini di riconoscere in tempo reale dei video quando in realtà le sue capacità sono più o meno quelle di GPT4 cioè in grado di capire cosa succede in un'immagine fissa corredata magari da un testo e non quello che accade in tempo reale in un video in ultimo prima di chiudere l'annuncio che finalmente è arrivato o più o meno sta per arrivare Arc su Windows il browser Arc di Arc ne abbiamo già parlato varie volte quindi non sto a ripetervi che cos'è cercatevi Arc sul mio canale comunque il browser è basato su Chromium della compagnia che si chiama The Browser Company e che ha un approccio innovativo ecco la UI dei browser devo chiudere questo tab perché mi sta facendo la faccia blu comunque arriva su Windows potete iscrivervi alla wait list se usate Windows e se aspettate come me Arc anche su Windows io sono utente di Arc su Mac ecco vi iscrivete alla waiting list quando Arc sarà pronto per Windows vi arriverà la mail e potrete provare la beta vi potreste chiedere come mai Arc ci ha messo così tanto a creare il suo browser per Windows a fare un porting del browser di Mac su Windows bene perché che hanno deciso hanno scelto di farlo in Swift cioè di mantenere il browser in Swift sapete che Swift è il linguaggio di programmazione creato proprio da Apple per i suoi sistemi ebbene esiste una toolchain Swift per Windows quindi loro hanno insomma pensato che fosse più economico che gli richiedesse meno tempo fare il porting del browser in Swift così com'è su Windows piuttosto che riscriverlo in C o C++ trovate un video su YouTube dove un co-founder di Browser Company spiega un po' tutto il procedimento che li ha portati a prendere questa decisione poi come hanno portato Arc su Windows in Swift e tra l'altro su GitHub hanno creato anche una loro toolchain quindi se andate su thebrowsercompany slash Swift meno build trovate anche i tool che loro hanno usato per buildare Swift che usano per buildare Swift e c'è anche la piattaforma Windows quindi trovate un po' un po' di informazioni tecniche l'ho trovato interessante perché appunto Swift su Windows non è una cosa che si vede tutti i giorni Swift è più una cosa che trovate su applicazioni per Mac o per iOS e invece qua c'è un progetto che sembra funzionare bene non ho ancora provato naturalmente la beta però insomma se l'hanno rilasciata vuol dire che sono abbastanza confidenti di questo prodotto scritto in Swift che girerà su Windows quindi staremo a vedere quando lo rilasceranno magari farò un giretto per vedere le caratteristiche se tutto funziona bene magari faremo una puntatina speciale per visitare questo browser che io adoro apprezzo tantissimo e basta dire che è tutto qua ho recentemente ho preso questa abitudine che non so quanto durerà che in fondo in coda all'episodio vi do qualche link qualche così qualche cosa da leggere se vi va di approfondire magari qualche argomento che abbiamo trattato oppure completamente slegato ecco dalle news ma che val la pena di andarvelo a vedere qualche consiglio ecco quindi oggi vi consiglio due articoli il primo ricollegandomi all'introduzione della puntata i 30 anni di Doom no? sulla magazine online multiplayer.it trovate un lungo articolo che ripercorre ecco gli anni di Doom si intitola Doom una retrospettiva per i 30 anni dello sparatutto in prima persona che ha fraggato l'industria se non sapete cosa significa fraggato probabilmente non vi interesserà questo articolo comunque trovate tutto questo l'articolone che vi fa un po' una retrospettiva di Doom e vi consiglio se siete appassionati di andarvelo a vedere e l'altro consiglio che vi do è un articolo apparso su IEE Spectrum o solo Spectrum non ho ben capito come si chiama questo magazine comunque questo è il sito trovate su Spectrum.iee.org l'articolo si intitola Why Li-Fi Might Be Better Than Wi-Fi così e no vabbè a parte il gioco di parole curioso l'articolo parla proprio di Li-Fi che è un nuovo standard ecco che appasso nell'ultimo nell'ultima versione del protocollo appunto Wi-Fi 802.11 BB ed è appunto questo che viene chiamato Light Fidelity quindi Li-Fi sta per Light Fidelity mentre in realtà e questo l'avevo già detto in tempi non sospetti Wi-Fi non ha nessun significato non significa assolutamente niente o perlomeno nessuno sa cosa significhi bene Li-Fi sta semplicemente per un meccanismo di trasferimento di dati usando la luce quindi in questo articolo si va ad approfondire che cos'è il Li-Fi come funziona e appunto è interessante per vedere come si sta evolvendo ecco il wireless questo potrebbe essere un protocollo da seguire per capire un po' l'evoluzione anche della comunicazione via rete non solo software insomma anche un po' di hardware dobbiamo vivere anche un po' di hardware e di protocolli e quindi per approfondire un pochino vi consiglio a vedere anche questo articolo ed era tutto ce l'abbiamo fatta grazie per avermi seguito fino qui non vi sto a promettere che ci vedremo domani perché poi magari invece non sarà vero ma insomma cercherò di fare il possibile per esserci anche altre giorni in questa settimana perché ci sono altre news che mi sono segnato che è interessante vedere questioni di cyber security questioni di hashicorp questioni di altre cose magari vedremo se nei prossimi giorni riusciamo a farle comunque intanto grazie a tutti quelli che mi seguono e noi ci vediamo prossimamente ciao